Il distretto nautico di Puglia è la regione Puglia tra i protagonisti del Cannes Yachting Festival di scena in costa azzurra. L'evento, che si è svolto da martedì 6 a domenica 11 settembre, ha attirato nell'anno della piena ripartenza post-pandemica appassionati e professionisti del mare. Il distretto di Puglia ha partecipato al celebre appuntamento internazionale che da più di 40 anni inaugura la stagione nautica con una variegata offerta di imbarcazioni con 8 aziende dell'indotto, alcune leader del settore degli accessori, altri del comparto ingegneristico. Soddisfazione espressa dal presidente Giuseppe Danese. Cannes 2022, un'edizione all'insegna della ripresa, una richiesta di imbarcazione forte che viene dal mercato, un interesse importante da parte dell'utenza. La regione Puglia è presente, assieme all'azienda della Nautica, del distretto della Nautica e della regione Puglia, una presenza importante che consolida l'autorevolezza del nostro comparto a livello internazionale. Il nostro stand è stato visitato costantemente tutti i giorni da numerosi utenti interessati, numerosi sono stati gli utenti sorpresi da quello che la Puglia può offrire in campo internazionale e soprattutto per un comparto nautico dove negli ultimi 5 anni abbiamo avuto una crescita del più 110%, immaginate.